Chi è e che cosa fa un Chief Technology Officer? Ciao, io sono Michele e oggi parliamo del CTO in un'azienda. Il Chief Technology Officer è una delle figure più di prestigio nel panorama tecnologico, soprattutto nelle aziende informatiche. Allo stesso tempo è spesso un ruolo magari vago o che non si capisce bene quali sono le sue responsabilità, quali sono i ruoli e effettivamente che cosa fa. Quindi per definire cosa aspettarsi da un CTO io partirei un po' al contrario, vado a dire quello che secondo me un CTO non è. In senso stretto tradizionale del termine un CTO non è un ruolo di engineering, quindi non è puramente e principalmente uno ruolo tecnico. Non è quindi al top, a livello più alto della carriera tecnica in sé e non è la naturale evoluzione di quello che può essere un Tech Leader. Inoltre non è un ruolo che le persone che amano particolarmente scrivere codice, architetturare i sistemi o fare decisioni tecnologiche e tecniche importanti possono trovare gradevole. Quindi lo mettiamo qui, no evo da Tech Leader, ok? E non è neanche necessariamente, mettiamolo un circa idoneo, potrebbe non esserlo per chi ama il coding, ok? Andiamo quindi, adesso che abbiamo detto che cosa non è e quindi non è necessariamente il miglior coder in azienda, coder in azienda, andiamo a vedere che cos'è. Allora, tipicamente potrebbe essere il co-founder tecnologico, co-founder tecnologico di una startup, di un'azienda tecnologica appunto è diventa, è il co-founder, è uno dei fondatori che si occupa della parte tecnologica ed è uno dei modi più diffusi con cui si può diventare CTO soprattutto nelle piccole realtà. In altri scenari potrebbe essere, magari in realtà un po' più affermate che ci sono da un po' più di tempo, che c'è stata una promozione del top engineer che dimostrava velleità da CTO e dopo vediamo quali potrebbero essere le caratteristiche. In altri contesti magari ancora un po' più grandi può essere che il vice president of engineering cambia di ruolo o viene tra virgolette promosso a CTO. Che cosa fanno questi CTO? Alcuni si occupano di persone, di hiring, quindi di assunzioni, si occupano di processi, si occupano della roadmap tecnologica, roadmap tecnologica. Oppure altri sono magari particolarmente idonei per essere il volto esterno dell'azienda dell'azienda in termini tecnologici, quindi la faccia, la facciata tecnologica dell'azienda in particolar modo può essere utile per degli investitori o per il rapporto con degli stakeholder. Proviamo un attimo a riassumere, dare un attimo una definizione. Allora, il CTO è un executive, quindi in italiano potrebbe essere nella sezione dei dirigenti, tecnico, strategico. Andiamo a prendere ciascuna di queste, diciamo, parole e darne una spiegazione. Parto da strategico. Per strategico intendiamo che il CTO è orientato sul lungo termine. Aiuta a pianificare il futuro del business in termini tecnologici. Per quanto riguarda la parte tecnica è ovvio, il CTO si occupa di questioni tecnologiche e per quanto riguarda la parte executive intendo che il CTO ha un mindset strategico. Lo metto qui strategico. E aiuta a rendere, a trasformare la tua strategia in passi reali, in azioni tangibili. Queste azioni possono essere svolte da lui in prima persona, in una parte sicuramente, e altre alloccherà le risorse e le persone affinché vengano eseguite per raggiungere il piano indicato. Ecco perché il ruolo del CTO è un ruolo affascinante. È multidisciplinare, richiede la comprensione del business e la comprensione della tecnologia e di farli combaciare. Quindi, diciamo, è l'ambasciatore massimo, è l'espressione massima in un'azienda, della tecnologia al servizio del business e non della tecnologia in sé per sé. Per oggi con il ruolo del CTO ci fermiamo qui. Se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto, mi raccomando, metti un mi piace e iscriviti al canale per rimanere notificato sulle prossime uscite. Ciao! Ciao!